Casarano, Brindisi e Barletta. Tre squadre blasonate, tre nobili decadute a caccia della risalita verso palcoscenici più consone alla propria storia. Questo il podio con il quale si è chiuso il 2018 del campionato di eccellenza pugliese e da cui il 6 gennaio prenderà il via la cavalcata verso la Serie D. In posizione di vantaggio di favorita numero 1 c'è senza dubbio il Casarano di Pasquale De Candia. Con 36 punti conquistati frutto di 11 vittorie tre pari e due sconfitte, la squadra allestita dal DS Pitino ha confermato le aspettative di inizio stagione eppure incappando in qualche passaggio a vuoto è riuscita a conquistare un primato che al momento appare assolutamente solido senza dimenticare il cammino che l'ha condotta alla finale regionale di Coppa Italia da giocare contro il Corato. Alle spalle dei Rosso Blu troviamo il Brindisi attardato di 6 lunghezze dai Salentini. Partita in maniera brillante la formazione messapica ha affrontato una prima parte di campionato complicata, culminata con l'esonero del tecnico Rufini e l'arrivo del tecnico Olivieri che pur con qualche inciampo pesante come i K.O. con Casarano e Barletta è riuscito a condurre i suoi in seconda piazza. A proposito di Barletta e Biancorossi, terzi a meno 8, completano il terzetto delle blasonate andando ad incarnare il ruolo di outsider. A differenza di Rosso Blu e Bianco Azzurri la squadra del tecnico Franco 5 non è partita con i favori del pronostico ma è cresciuta partita dopo partita arrivando fino al secondo posto ottenuto dopo la vittoria sul Brindisi e perso poi a causa dei due pari in trasferta a Bieste e Sansevero con i quali si è chiuso il 2018. Dopo la pausa natalizia il campionato di eccellenza ripartirà da questo tris di blasonate ma le sorprise non sono assolutamente escluse.